Se ancora sei le prime armi e stai cercando di capire come funzionano i DB globali, i DB a istanza, seguimi perché andremo a capire insieme come sono strutturate. Ciao e benvenuti all'interno del mio video, sono Stronghold Alessandro, il programmer coach specializzato in programmazioni PLG e Siemens, dove oggi andremo a capire veramente come inserire questo tips, questa struttura del DB, quindi del nostro database, all'interno del tuo sacchetto di esperienza. Prima di iniziare iscriviti, attiva la campanellina della possibilità e mi raccomando condividi i più possibili questi video in modo tale che tante altre persone che stanno affrontando il mondo della programmazione PLG possono trovare un luogo dove potersi tenere aggiornati ed informati su qualsiasi tipo di tecnologia che uscirà nel tempo. Allora, che cosa sono le DB e che cosa sono le istanze? Innanzitutto devi tenere in considerazione che le DB molto semplicemente sono dei contenitori. Tu immagina una cassetta, un contenitore dove all'interno ci vai a mettere diversi tipologi di oggetti. All'interno di questi oggetti naturalmente hanno una struttura, hanno un valore, hanno una forma, hanno un colore, hanno tante caratteristiche particolari. Ecco, quelle sono le tue variabili. Ogni singolo componente ha una variabile, ogni singola variabile ha una struttura, ogni singola struttura ha un tipo di forma e ogni tipo di forma può assumere ogni tipo di valore. Naturalmente consapevole del fatto che se è un booleano, per esempio, un bit può essere 0,1 o se è un numero deve essere un intero, un reale, con o senza virgola, un doppio intero, dipende dalla lunghezza. Sappiamo veramente che esistono tantissime variabili, quindi ogni tipo di variabile avrà il suo valore. Ecco, questo contenitore che tu hai in mano, concettualmente, metaforicamente, tu ce l'hai all'interno del software, questo contenitore contiene tutte queste variabili. Perché questo? Prova a immaginare, tu sei all'interno di un progetto, per un tuo cliente, ha bisogno di strutturare una funzione per fare uno scambio segnale con una determinata macchina e quella determinata macchina ha dei segnali. Segnali che possono essere in lettura o segnali che possono essere in scrittura, dei segnali che possono essere ricevuti o possono essere inviati. Quello che devi fare principalmente è iniziare a capire quella macchina come lavora e perché lavora in quel determinato modo per creare successivamente quella che è una logica di funzionamento. Ma, attenzione, per andare a seguire quello che poi è una programmazione della logica di funzionamento devi andare a capire quali sono i segnali che a lui servono per funzionare, quali sono i segnali che servono a me, in questo caso a te, per far funzionare quella macchina nel miglior modo possibile durante la produzione, soprattutto quando noi non saremo più sul cantiere, quei segnali vanno inseriti all'interno di un database, vanno inseriti all'interno della tua DB. Poi, giustamente, può essere una DB distanza, può essere una DB globale. Quello lo guardiamo dopo. Una volta che avrai inserito tutti i parametri, i segnali di scambio, i valori che dovrà assumere, o potranno assumersi, all'interno del vario software che andrai a creare, ecco, quello è il tuo contenitore. Cioè, tu quando aprirai la DB dirai, questa è la DB con tutti i dati, con tutti i parametri, con tutte le caratteristiche, con tutte le strutture che serviranno per comunicare con quella macchina nella maniera più corretta possibile. Ogni singola macchina ha la sua DB. Naturalmente poi esistono DB standardizzate, così sono tutte uguali, con parametri diversi, con valori diversi, ma la struttura è sempre quella, quindi lavorare il meno possibile, ma allo stesso tempo hai la possibilità di, se un giorno devi andare a creare quello che è una funzione per un motore, una DB per un motore, una DB per un dispositivo, per un pistone, non un pistone, una struttura per un pannello operatore, ho la possibilità di creare un qualcosa e ho bisogno di una struttura, un contenitore con tutti i parametri all'interno, ecco che lì salta fuori quello che è il concetto del creo una DB, che è il mio contenitore di tutti questi parametri, per far sì che io quando cerco qualcosa da poter sviluppare per quel determinato argomento, allora io l'ho fatta prendere da quella determinata DB. Ora, come ti dicevo esistono due tipologie di DB, DB globale e DB distanza. Molto semplicemente differenziamo quello che è manuale e quello che è automatico. La DB globale è una DB manuale, perché? Viene definita globale proprio perché è vuota, non c'è niente all'interno, quello che noi dovremmo fare è un lavoro manuale, cioè andare ad inserire manualmente, riga per riga, tutti i singoli parametri che dobbiamo utilizzare. Parametri si intende variabili, può essere un booleano, può essere una struttura, può essere una funzione determinata da Siemens, può essere quello che è un array, può essere quello che è eccetera 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 eccetera. Quindi manualmente vado a scrivere, ho questo, 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 ok? Faccio la mia lista di tutte le variabili che vanno applicate all'interno. Naturalmente dopo che io ho questa DB posso andare ad utilizzare richiamando ogni singola variabile nel software dove voglio io. In questo caso se tu hai bisogno di fare una funzione per gestire, non so, un motore, hai start, stop, reset, lo stato default, quindi di allarme, lo stato di warning, poi avrai la sua marcia avanti, marcia indietro, oppure il salghi e scendi, il jog, il manuale, l'automatico, lo stop, il reverse e così via. Più tanti altri parametri come l'accelerazione, decelerazione, il tempo di avvio, il tempo di ritardo di avvio, il tempo di ritardo al disimpegno, quindi se devo andare in decelerazione quanto tempo devo aspettare, eccetera eccetera eccetera. Tanti altri parametri che possono riguardare, non so, la configurazione della rete per come va a comunicare quel motore col nostro PLC, li troverai tutti lì dentro. Allora quando vai a creare il software tu dici, ok mi serve questo parametro, mi serve questa variabile, la prendo e la vado a sfruttare. E si trovano tutti lì. Questa qua è la DB dedicata al motore, per esempio uno. Poi ci sarà la DB identica, perché un motore dall'altro, se concettualmente sono guani e fanno lo stesso lavoro, anche se meccanicamente sono in parti geograficamente anche diverse, avrà la DB del motore 2, DB del motore 3, DB del motore 4 e così via andare. Naturalmente cosa succede se io ho un qualcosa di standard che è sempre stato così, ormai è stato ottimizzato in quel modo, la funzione è sempre quella, la lavorazione è sempre quella, le operazioni che deve svolgere, step by step sono sempre quelle, che cosa vado a creare? Tutte le volte mi devo creare la funzione per gestire quel dispositivo e puoi creare successivamente a mano tutta la DB? Assolutamente no. Per questo esistono le FB. Le FB sono dei modelli, delle funzioni modello, come è presente il copia e incolla. Una volta che l'hai fatto una volta, devi soltanto che timbrare tutte le sante volte che dovrai utilizzarla. Quindi andrai a creare quella che è la tua FB per gestire la logica di funzionamento di quel determinato dispositivo e poi automaticamente lui andrà a crearti la DB di istanza per quel componente. Istanza noi genericamente la possiamo ipotizzare come un momento. Un'istanza, se andiamo a controllare, significa un evento, un momento, un punto particolare, un momento particolare in cui è successo qualcosa. In questo programma, in questo concetto della programmazione, quindi a livello informatico, istanza non significa soltanto il momento in cui è successo qualcosa, ma significa un determinato dispositivo che deve lavorare. Quindi per ogni dispositivo può esistere una DB di istanza. Faccio esempio. Se ho un impianto di 100 motori asincroni che mi fanno tutti la stessa identica lavorazione, quindi vanno a portare avanti quello che è una cinghia, un nastro, un qualsiasi cosa, naturalmente sappiamo benissimo che 100 motori su una cinghia non è che può esistere. Saranno motori a catena, uno dopo l'altro, casomai che mi fanno delle derivazioni, ma ognuno ha la propria meccanica. Quindi sono scorporati, ognuno va da sé. Ecco, io vado a creare la mia funzione per gestire il singolo motore. Una volta che avrò gestito il mio singolo motore, start, stop, reset, eccetera, eccetera, rampa di accelerazione, di accelerazione, comunicazione, reset, allarmi, bla 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 bla. Ok, io vado a applicare la mia funzione all'interno del mio software. Lui andrà a dirmi, ok, perfetto, tu mi stai dicendo di applicare questa funzione nel tuo software, ma dove vado a registrare tutti i valori che verranno modificati nel tempo, soprattutto gli stati logici. Ecco, gli stati logici verranno applicati a una determinata DB. Verranno sovrascritti e memorizzati all'interno di un database, perché naturalmente la funzione sarà solo una per 100 motori. È richiamata più più volte, ma le DB, cioè ogni singolo motore, deve essere indipendente da tutti gli altri, quindi deve memorizzare i propri dati, i stati logici, i propri valori, all'interno della DB. Distanza, DB distanza per il motore 1, DB distanza per il motore 2, DB distanza per il motore 3, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi andiamo avanti fino al centesimo. Cosa succede? All'interno del suo software non è che abbiamo una funzione e basta. Per ogni motore ci vuole la sua funzione, quindi la prendi, la butti dentro, la tua funzione FB, vai a richiamare sopra quella che è la DB distanza motore 1, basta. Quella è gestita lì, la vai a gestire lì. Poi devi fare quello del motore 2, riprendi la stessa funzione copia e incolla, o prendi i trascini, vai lì, è la stessa funzione, la stessa logica, è un FB fatta apposta, e sopra vai a dire, guarda, questa è la DB per il motore 2, poi vai a fare un altro copia e incolla, questa è la DB per il motore 3, copia e incolla, questa è la DB per il motore 4, in modo tale che, quando il software cicla, e va a eseguire ogni singola funzione, andrà a eseguire ogni singola funzione, che andrà a interagire, concettualmente, anche praticamente, con ogni singola DB che è stata applicata sopra, quindi quello per il motore 1, quello per il motore 2, quello per il motore 3, in modo tale che ogni singolo motore lavori indipendentemente da tutti gli altri. Prova a pensarci bene, è come concettualmente, se dovessimo essere in una stanza, in un tavolo, un tavolo rotonda, dove ci sono 10 persone che devono scrivere tutti su un foglio, non è possibile, ognuno deve proprio scrivere sul proprio foglio, e poi dare fuori il risultato, perché tutti i 10 su uno stesso foglio, non possiamo scrivere, non si capisce niente, ma la cosa non funziona, è come se in macchina c'è un volante, un guidatore, basta, e ci mettiamo tutti i 10 a guidare, non esiste, non funziona, c'è chi vuole tirare a sinistra, c'è chi vuole tirare a destra, c'è chi vuole tirare a mezzo, c'è chi vuole svoltare, c'è chi vuole frenare, vedi, 10 persone a guidare, no, solo uno, concettualmente qui è la stessa identica cosa, quindi quando uno deve gestire un determinato dispositivo che è, diciamo, ha più componenti all'interno del proprio impianto, della propria macchina, che lavorano in la stessa identica maniera, posizionati in momenti diversi, in situazioni diverse, in posti geografici diversi, ecco che qui entra in gioco l'FB che ti crea la DB distanza, quindi, ricapitolando cosa abbiamo imparato oggi, che la DB globale è una DB vuota, che noi andiamo a inserire ogni singolo parametro all'interno da poter utilizzare all'interno del nostro software, dove vogliamo, la DB distanza è una DB generata automaticamente dalla nostra FB che si rivelerà per andare ad autogestire ogni singolo dispositivo, componente, quello che sia, o logica di funzionamento, all'interno del suo programma, replicando sempre quella che è la nostra stessa funzione, ma cambiando solo quella che è la DB di appoggio, dove andranno a memorizzarsi tutti i vari parametri. Bene, questo è per quanto abbiamo visto oggi, alcuni due step particolari, che devi avere ben chiaro all'interno della tua programmazione, e dei tuoi singoli step, che andrai a creare di passo dopo passo, da qui ad andare avanti. Mi raccomando, se ancora non hai fatto, hai la possibilità di scrivere nei commenti, un argomento che è di tuo interesse, che vuoi approfondire, in modo tale che il tuo commento possa essere selezionato, per far sì che vengano generati nuovi contenuti, di altissimo valore, che possono aiutarti ad affrontare il mondo della programmazione PLC, nella maniera più velocemente possibile, e anche più facile. Mi raccomando, iscriviti, metti un like, condividi, e attiva la campanellina, per far sì che i prossimi contenuti, siano sempre notificati, e che tu possa riceverli correttamente. Io ti ringrazio, e ci vediamo. Ciao.